Bentrovati, bentrovati ad un nuovo video tutorial firmato fabioambrosi.it Il tutorial di oggi è molto 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 utile soprattutto a coloro che vogliono montare un video quando si utilizzano contemporaneamente più telecamere perché alla fine può capitare se dovete fare le riprese ad un matrimonio piuttosto che a un concerto, piuttosto che al saggio di vostro figlio di avere magari la fortuna di avere a vostra disposizione non una, non due ma anche tre, quattro, cinque, dieci videocamere e magari avete voglia di montarle contemporaneamente un po' come se vi trovasse davanti ad un mixer video e dobbiate mixare live tutte le videocamere presenti in un determinato momento ecco di questo parleremo in questo video tutorial prima però vi ricordo come al solito il mio sito internet www.fabioambrosi.it sito dove troverete chiaramente tanti altri tutorial dedicati a Premiere ma soprattutto questo corso, il corso di introduzione, il corso base ad Adobe Premiere Pro se avete voglia ovviamente iscrivetevi anche a questo canale YouTube in modo da non perdere i prossimi tutorial che usciranno e ne usciranno anche tanti altri anche su altri software nei prossimi mesi basta, fine, vediamo quello che faremo oggi oggi vedremo come fare questo come avere in un monitor, il nostro monitor di anteprima magari le nostre videocamere messe a sync e come vedere sul monitor di destra quindi il monitor programma il risultato del nostro montaggio e sostanzialmente come fare questo ecco scegliere quale camera mandare al montaggio a questo punto le camere dovrebbero essere perfettamente semplicemente utilizzando i tasti della tastiera ok? vediamo come funziona questo procedimento lo scopo del nostro tutorial di oggi è montare una sequenza di immagini utilizzando due telecamere contemporaneamente è chiaro che si può fare nella maniera tradizionale ovvero una volta messe a sync le due videocamere è possibile lavorare direttamente in timeline spostando i vari blocchi dei vari oggetti multimediali e scegliere di volta in volta quale inquadratura utilizzare però il procedimento di multivideocamera velocizza molto questo questo procedimento e soprattutto ci permette di simulare un po' quello che si fa in una cabina di regia dove c'è un mixer video che riceve diverse sorgenti video che poi l'operatore andrà a selezionare su indicazione del regista di volta in volta esistono due modi in premiere per fare questa operazione la prima è la tradizionale il workflow tradizionale che si faceva fino a diversi anni fa che prevede dei passaggi forse un po' più lunghi anzi sicuramente più lunghi rispetto ad oggi e la seconda modalità invece prevede degli strumenti nuovi messi a punto da Adobe Premiere per velocizzare sensibilmente il procedimento li vedremo entrambi e vi consiglio di utilizzare quello con cui vi trovate più a vostro agio probabilmente il nuovo workflow è molto più rapido è preciso e ci mette al riparo da diversi errori da diverse problematiche cominciamo però dal workflow tradizionale dunque intanto a prescindere dal workflow che voi andrete ad utilizzare dovete importare del materiale in premiere abbiamo visto nelle prime lezioni di questo corso come si fa quindi se siete nuovi in premiere e siete capitati su questo tutorial per caso il mio consiglio chiaramente è di recuperare le lezioni precedenti del corso di premiere perché qui oggi molte cose ovviamente le darò per scontate una volta importato il nostro materiale nel nostro pannello progetto chiaramente noi lo potremo al solito visionare, esplorare, modificare a livello di color correction lo vedremo in questo corso più avanti come fare e soprattutto potremo scegliere quali clip dovranno far parte del nostro montaggio multicamera dobbiamo creare chiaramente una sequenza quindi CTRL N abbiamo detto selezionate il preset che più vi aggrada meglio ancora date un nome per esempio clip sorgente date invio oppure cliccate col mouse sul bottoncino ok e abbiamo qui la nostra sequenza dobbiamo adesso mettere a sync le nostre camere cosa vuol dire mettere a sync? vuol dire fare in modo che entrambe le videocamere condividano lo stesso audio detto semplicemente vale a dire che quando io batterò le mani perché dovrò avere un riferimento per prendere il sync a volte si usa il labiale ma è più semplice avere un chuck in testa o in coda alla clip quando io appunto utilizzerò entrambe le videocamere entrambe le videocamere ovviamente dovranno condividere lo stesso audio e dovranno avere gli stessi riferimenti temporali detto male questo è quello che significa mettere a sync ma lo vedremo subito quindi questo vi sarà subito molto più chiaro scegliamo un riferimento temporale condiviso da entrambe le videocamere cosa vuol dire? io prima di girare questa sequenza ho battuto le mani e entrambi questi battiti di mani sono presenti in entrambe queste videocamere quindi andrò a scegliere un fotogramma comune a entrambe le immagini a entrambi i filmati che prenderò come riferimento allora eccoci qua ho battuto le mani due volte perché è sempre meglio come si dice avere un battito di mani in più che un battito di mani in meno mettiamola in questo modo c'entrano gli intraframe ma adesso non mi dilungo troppo ad ogni modo cerco il fotogramma in cui le due mani si toccano e viene prodotto il suono ecco qua quindi inizia il suono ma ecco qui le mani si toccano e c'è il battito premo il tasto i sulla tastiera quindi inserisco un in un in un marcatore di in e posso portarmi questa prima videocamera nella timeline ok quindi la prima camera inizierà esattamente dal momento in cui le mie due mani si toccano e producono il battito faccio la stessa cosa con la seconda immagine quindi trovo intercetto il punto ecco qua in cui vado a battere le mani la prima volta vado avanti con le freccettine del della tastiera per muovermi di fotogramma in fotogramma eccoci qui qui è più semplice è molto più netto vedete qui viene prodotto il suono anche qui con il tasto i della tastiera inserisco il punto di in e trascino questa clip nella timeline esattamente nel punto in cui iniziava anche l'altra cosa succede succede che i due audio sono perfettamente a sync e anche le due forme d'onda a questo punto le camere dovrebbero essere perfettamente sync ok e la conferma è data dal fatto che l'audio sostanzialmente si sovrappone in entrambe le camere ho avuto un attimo di tutubanza perchè andando ad ingrandire la forma d'onda è abbastanza evidente qui per esempio che c'è un piccolo spostamento di audio tra le due clip quando si hanno a che fare con spostamenti slittamenti così microscopici a volte non è una cosa grave nel senso che come potete vedere i due battiti di mani non coincideranno mai alla perfezione questo ha a che fare con il modo con il quale la vostra videocamera o le vostre videocamere campionano il suono campionano i fotogrammi non mi dilungo troppo la cosa importante ovviamente è che questi due queste due forme d'onda siano il più possibili allineate ok anche così poteva andare bene ma probabilmente ho diciamo anticipato troppo il punto di sync della prima videocamera quindi tenendo premuto il tasto alt della tastiera e la freccettina di destra sposto la clip leggermente a destra e adesso probabilmente l'audio è un pochettino più a sync rispetto a prima vediamo un attimino devono essere perfettamente sincronizzate e noi possiamo parlare e montare allo stesso tempo in maniera live credo che a livello audio almeno dovremmo esserci ok direi proprio di sì a livello video anche vi dicevo prima che potete anche lavorare con il più telecamere in maniera veramente tradizionale come andando a scollegare tutte le varie le varie clip con lo strumento con selezione collegata e a questo punto potrete andare a scegliere quale telecamera utilizzare semplicemente scoprendo o coprendo ok il video che è di vostro di vostro interesse questo è il modo tradizionalissimo per lavorare con un montaggio multicamera però chiaramente noi oggi vedremo come utilizzare il multicamere di premiere che vedrete quanto sarà bello e veloce utilizzare dicevo il modo vecchio la strada vecchia per lavorare con il multicamere in premiere prevedeva la creazione di una sequenza nidificata guardate il tutorial passato di qualche lezione fa per capire di cosa sto parlando e trasformare questa sequenza nidificata in una sequenza multicam cosa vuol dire vuol dire che io vado a selezionare tutte le clip che vogliono nidificare con il tasto destro del mouse clicco sulla voce nidifica assegno un nome alla nuova sequenza che sto per creare multicam ad esempio clicco ok e vedete che le due le due tracce video sono state accorpate in un'unica traccia video ed è stata creata una nuova sequenza sequenza appunto multicam se lo vado ad aprire chiaramente trovo il materiale originale su cui stavo lavorando prima questa sequenza sostanzialmente la parte video di questa sequenza è stata spostata nella mia sequenza originale dove c'è soltanto un'unica grande traccia video che è la mia se la mia traccia video nidificata in precedenza ma chiaramente poco cambia noi in questa fase del montaggio perché noi vogliamo poter vedere contemporaneamente tutte le videocamere che sto utilizzando in questa sequenza multicam per fare questo chiaramente occorre abilitare la funzione multicam clicco con il tasto destro del mouse sopra alla sequenza appena nidificata e scelgo la voce multivideocamera abilita olè voi direte è cambiato poco intanto se io adesso con questa traccia selezionata o meglio con la timeline selezionata premo i tasti 1 e 2 non dal tastierino numerico perché non funzionano i tastierini il tastierino numerico mi permette di cambiare il time code di riferimento della timeline ma i tasti numerici presenti sopra le lettere della vostra tastiera vedrete che io posso scegliere premendo 1 o 2 quale camera vedere e che mi pare già molto molto buono ok ma io dicevo voglio vedere tutte le videocamere contemporaneamente per fare questo ho bisogno di abilitare nel monitor programma la funzione multicam è semplicissimo anche qui clicco con il tasto destro sul monitor programma scelgo la voce modalità di visualizzazione e invece che videocomposito scelgo multivideocamera ecco qua vedete che tutte le mie due telecamere che ho utilizzato per questa sequenza vengono mostrate in questa parte sinistra la camera attiva viene bordata di giallo e la camera relativa che chiaramente è quella restante qui potrete avere potreste avere anche dieci telecamere contemporaneamente ok io ho fatto questo esempio solo con due camere ma nessuno vi vieta di utilizzarne quante le volete fate solo attenzione che questa operazione richiede diverse risorse al vostro computer alla vostra macchina quindi intanto io vi sconsiglio di lavorare in questa fase del montaggio con materiale superiore all hd quindi possibilmente evitate di lavorare in 4k in questa fase per lavorare in 4k occorre utilizzare i proxy ne parleremo in un altro tutorial però state attenti dicevo perché in questo modo utilizzando il multivideocamera il vostro computer o meglio la vostra scheda video deve processare contemporaneamente più segnali e quindi le prestazioni potrebbero essere sacrificate se nonostante voi stiate utilizzando del materiale non in 4k quindi del materiale semplice ma il vostro computer non è così performante da reggere la modalità multivideocamera potete abbassare la qualità del vostro video portandolo da massima per esempio a un mezzo un quarto un ottavo o così via ok in maniera da rendere il vostro montaggio più fluido bene come si fa a montare in multicam bene dopo aver abilitato il multicam perché adesso effettivamente l'abbiamo abilitato dobbiamo abilitare la registrazione multicam per abilitare la registrazione multicam se non è già attiva di default dovete utilizzare questo bottoncino che è attiva disattiva la registrazione multivideocamera se questo bottoncino non lo trovate come spesso accade di default come per esempio sto simulando adesso dovete cliccare sul bottoncino più nel monitor programma e avrete a disposizione altri strumenti da poter inserire nei bottoni in basso di questo monitor prendete il bottoncino di registrazione trascinato dove volete in questa barra inferiore dal lino ciao qui premo ok ed ecco che ho il bottoncino per la registrazione multivideocamera lo abilito c'è un bordino blu che mi indica che è attivo a questo punto io quello che devo fare semplicemente premere il tasto play ovvero la barra spaziatrice o play direttamente da qui e montare live quindi scegliere con i tasti 1 e 2 1 per la prima videocamera 2 per la seconda videocamera dicevo scegliere quale angolazione utilizzare nel nostro montaggio facciamo un esempio mi metto all'inizio di questo di questa clip facciamo finta che io questo primo blocco non mi serva più ok dicevo metto all'inizio vado in play e inizio utilizzare i tasti dalla tastiera per montare a questo punto le camere dovrebbero essere perfettamente sincronizzate e noi possiamo parlare e montare allo stesso tempo in maniera live buon divertimento ok come potete vedere poi premendo stop mettendo in stop la timeline viene spezzettata il lo meglio la clip la sequenza edificata di prima viene spezzettata in tanti tagli perché premier ha tagliato live a seconda delle nostre indicazioni a seconda del tastino della tastiera che noi stavamo utilizzando chiaramente nulla è per sempre nemmeno il montaggio che aveva appena fatto quindi chiaramente se avete sbagliato potete tornare indietro premere ancora la barra spaziatrice e rifare un altro montaggio parlare e montare allo stesso tempo in maniera live buon divertimento ok potete vedere che premiera adesso sia sia ha modificato itali live basandoci basandosi sui sulle indicazioni che noi gli abbiamo ridato chiaramente possiamo montare sempre in maniera tradizionale quindi possiamo spostare i vari vari punti di attacco e distacco delle varie dei vari segmenti possiamo anche cambiare la telecamera utilizzata per esempio selezionando questo blocchettino e senza premere play premere abilitare l'altra videocamera quindi in questo caso questo segmento a conserverà le informazioni della prima videocamera e così via è un diventa un montaggio da questo punto in poi praticamente tradizionale ok questo è diciamo il metodo tradizionale che si è utilizzato fino a poco tempo fa per lavorare con la multivideocamera che per carità è veloce tranquillo si è sempre utilizzato e va bene quando avete terminato il vostro montaggio multicam ed è un consiglio se avete la possibilità fate quello che sto per dirvi e non volete più mettere mano al vostro montaggio multicam potete appiattire le clip cosa vuol dire appiattire le clip in questo in questo momento la clip video su cui mi trovo conserva contemporaneamente le informazioni della prima della seconda videocamera se io clicco con il tasto destro del mouse su questa clip ma quello che sto per fare potete farlo su tutte le clip in una botta sola selezionando le tasto destro del mouse vado nelle opzioni della multivideocamera che si trovano qui e scelgo la voce appiattisci guardate cosa accade wow le clip video non sono più clip multicamera io non posso più modificare ok la clip o meglio il segnale video che voglio mostrare tornano ad essere delle clip normalissime e ho perso diciamo per sempre la possibilità di fare modifiche al nostro montaggio multicam perché è importante fare questo ed è consigliato perché quando andremo a lavorare con la color correction piuttosto nel momento in cui dovessimo esportare questa timeline per consegnarla al nostro colorist per esempio su da vinci appiattire le clip è un modo sicuro per condividere il materiale con altri software per esempio da vinci non credo ancora legga le sequenze multicam di premiere quindi il modo sicuro per mandare spedire questa timeline ad un altro software è appiattire le clip video montate come multicam dicevo questa è la strada vecchia che si utilizzava fino a diverso tempo fa vediamo adesso come lavorare con i nuovi strumenti messi a disposizione da adobe premiere è tutto molto più semplice per certi aspetti ma prevede un po di consapevolezza da chi da chi lavora al montaggio con questa tecnica vi faccio capire subito di cosa sto parlando ok intanto dobbiamo sempre importare il materiale video come abbiamo fatto fino adesso o mentre nella vecchia scuola così nel vecchia tecnica bisognava creare una sequenza mettere a sync il materiale abilitare il multicam eccetera eccetera i nuovi strumenti messi a disposizione da adobe premiere prevedono di fare determinate operazioni in automatico il mio consiglio se siete alle prime armi con premiere e non avete mai montato in vita vostra oltre ovviamente a recuperare le lezioni passate di questo tutorial cercate di esercitarvi come compito lo do nel mettere a sync le videocamere a mano perché perché è sempre bene sapere come si mettono a sync le immagini perché mettere a sync del materiale è qualcosa che può servire che può accadere di dover fare non soltanto con quando si lavora con la multicam ma in tante altre situazioni quindi come esercizio il mio consiglio è prendete dimestichezza con il sync chiamiamolo così manuale ok se siete già bravi i montatori e volete semplicemente in pochi secondi avere tutto a sync creare una sequenza multicam in pochi clic fate quello che sto per fare selezionate entrambe le camere che volete includere nel vostro progetto multicam io ne ho presi due ma potrebbero essere anche 10 ok con il tasto destro clicco su una delle due clip e scelgo la voce crea sequenza sorgente multicam ok questa è una funzione relativamente nuova di adobe premiere crea sequenza sorgente multicamera ok clicco chiaramente sopra e ho questa finestra davanti è abbastanza intuitiva però ad ogni modo vediamo di cosa si tratta il primo campo ci permette di dare un nome alla nostra sequenza multicam quindi io la chiamerò multicam chiaramente ho scelto la voce personale altrimenti premier mi avrebbe dato un nome diciamo automaticamente ok successivamente mi viene chiesto come intendo gestire il sync ora non entro nel dettaglio dico rapidamente chiaramente che noi possiamo marcare in anticipo il punto il fotogramma che vogliamo prendere come inizio della nostra clip come riferimento come abbiamo fatto prima con il battito di mani con il chuck basandoci chiaramente su un punto di attacco un punto di attacco su un codice di tempo vado avanti veloce quello che ci interessa a noi è questa opzione audio cosa vuol dire opzione audio vuol dire che premiere sostanzialmente analizza l'audio di entrambe le clip ovviamente entrambe le videocamere devono avere l'audio registrato analizza l'audio di entrambe le clip e automaticamente dispone le due clip video in maniera tale che automaticamente siano a sync ed è quello che noi faremo in questo in questo progetto lasciamo tutto così com'è per il momento anche qui è possibile dare un nome alla videocamera quando apparirà nel monitor multicam ma per il momento lasciamo tutto così com'è clicchiamo ok premiere analizza l'audio delle due delle due clip video lo mette a sync manda automaticamente le due clip dentro un raccoglitore per una semplicissima questione di ordine nulla di più e crea una sequenza la sequenza multicam se io la vado ad aprire chiaramente mi appare direttamente nel monitor di anteprima ok e sostanzialmente abbiamo già quello che noi abbiamo abbiamo fatto prima sostanzialmente abbiamo una sequenza multicam con più informazioni delle due videocamere inserite contemporaneamente o chiere creerò adesso la sequenza di destinazione ovvero la sequenza in cui andrò ad inserire lasciamo pure il nome di default la sequenza multicam ok chiaramente quello che non vi ho detto quando ho creato la sequenza multicam è che voi potevate scegliere anche un preset dita di sequenza da utilizzare l'ho fatto scegliere automaticamente a premiere probabilmente mi ha fatto un 4k o mia sostanzialmente scelto una sequenza con i settaggi differenti da quella che ho appena creato quindi clicchiamo su mantieni ed ecco la mia sequenza multicam sostanzialmente così come ci trovavamo poc'anzi ok l'audio messo a sync in questo caso abbiamo gli audi di entrambe le videocamere ok non attivi nel senso che premier ha scelto solo un audio da utilizzare l'altro l'ha automaticamente escluso tutte queste impostazioni lo ripeto possono essere scelte nel momento in cui andiamo a creare la la sequenza multicam vedete premier qui mi può mi chiede quale audio intendo utilizzare nella mia sequenza nella mia sequenza multicam io qui avevo chiesto di utilizzare l'audio della prima videocamera quindi chiaramente qui mi troverò soltanto un audio ok ma le due camere sono a sync devo abilitare ancora una volta la visualizzazione multicam quindi nella voce modalità di visualizzazione sceglierò multi videocamera dovrò abilitare il tastino rec e sostanzialmente mi ritrovo esattamente dove mi trovavo poc'anzi ok da qui in poi è tutto uguale premo la barra spaziatrice ok avete visto sostanzialmente che poi il procedimento è esattamente lo stesso che abbiamo visto poc'anzi anche qui quando abbiamo terminato il montaggio vado a scegliere la voce montaggio multi multi videocamera appiattisci questo è un'operazione ripeto che consiglio di fare soprattutto se dovete collaborare con altri professionisti e con altri software ecco qui così diciamo può definirsi conclusa questa lezione sul come utilizzare il multi cam in premier è chiaramente una lezione introduttiva così come lo è lo è questo corso di montaggio video con adobe premier ci sarebbero tante altre cose da dire e tanti altri esempi da fare intanto per chi prende di mistichezza con premier per chi ha le prime armi questa è un'ottima base da cui da cui partire se avete domande come al solito fatele commentando questo video o venendo sul sito internet www.fabbiambrosi.it dove troverete gli articoli collegati a queste video lezioni commentate anche sul sito internet tra i commenti iscrivetevi a questo canale perché altri video e altre lezioni giungeranno a breve il corso ancora non è finito dobbiamo ancora parlare di come gestire l'audio in premier ed è quello un altro capitolo fantastico ed è un altro mondo a parte l'audio dobbiamo ancora parlare della color correction ed è quello quella color meriterebbe proprio un corso a parte ok e anche qualcuno che la sappia fare veramente bene perché è difficile parleremo ancora di come gestire la grafica i sottotitoli gli argomenti da trattare purtroppo per voi per chi mi segue già da diversi mesi ce ne sono ancora davvero tanti grazie per il supporto grazie per i messaggi che mi inviate spero di avervi insegnato qualcosina di quello che so ovviamente io non so tutto quindi se qualcuno vuole aggiungere qualcosa o vuole dare altre informazioni è liberissimo di farlo tra i commenti a questi video www.fabbiambrosi.it iscrivetevi a questo canale grazie ancora e al prossimo video ciao ciao